Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo Scopriamo Per scoprire insieme a voi Shadow Warrior 2 nella sua versione per console Il gioco, come forse molti di voi già sapranno, era disponibile già da un bel po' di tempo su PC Ma ultimamente è sbarcato su PS4 e Xbox One Io lo sto provando su Xbox One, speriamo sia bello anche perché io mi ero perso la versione PC Per cui per me è un gioco del tutto nuovo Ma insomma so che è un gran bel prodotto Per cui scopriamo insieme com'è uscito fuori su console Sperando sia altrettanto valido Io farei un single player classico adesso C'è la difficoltà Io non ho paura, che è normale, credo, normale Ok, perfetto Preferisco sempre, insomma Fare una cosa discretamente normale ed equilibrata Onde evitare di fare figure peggiori di quelle che faccio normalmente, ecco Bene, all'inizio purtroppo l'ho dovuto troncare Mi dispiace perché C'era una musica copertissima da copyright Che mi avrebbe causato non pochi problemi Per cui ho prevenuto tagliare Ma in sostanza cosa è successo? Abbiamo fatto il botto in seguito all'attacco di una serie di demoni samurai Per cui diciamo che la cosa si prospetta molto buona Intanto noto Noto che probabilmente succederà il delirio Allora, selezione delle armi Tieni premuto LB e seleziono l'arma con R Io ho un mitra, una pistola e una katana Vabbè Mi posso alterare Tengo premuto No Perfetto Ok, ce l'ho Sono carico e pronto Mi attacca Bene Devo cercare qualcosa Devo cercare qualcosa Ma non so bene che cosa Ho un doppio salto Stilisticamente mi piace un casino Comunque Non so a voi che impressione stanno facendo Ma No, 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 no Evitiamo di fare una finaccia Ok Poi ho anche lo scatto in avanti Mi aspetto combattimenti a dir poco frenetici Ok Non manco letto Non t'avevo già capito Più frenetico tutto Tutto frenetico Iper veloce Che cosa Non ti fai niente cadendo Provaci adesso Vabbè Non mentiva Ma che cosa È leggermente caotico Ok Armi Mosse speciali Premi L Però Vabbè Ah Io non so cosa sto facendo Devo Devo rubare un oggetto miseroso Per la Yakuza Mi dicono Ho messo una Una lunga serie di Di incisioni In modi e maniere Che non conosco C'è un modo per Per approfondire Le mosse Le mosse Le skill Che c'ho Che cosa posso fare Mi dite che Le mie abilità Wanglopedia È bello malato Sto gioco Allora Vabbè Ragazzi Per non sapere leggere E scrivere Io vado di Di pistolone Pistolone is the way Allora Mi hanno ripistinato Il chi C'è un posto Per ripistinare Ah Ah Ecco Ok Per ripistinare L'energia vitale Se è venuto L O L Vabbè Ci sono un sacco Di cose Che non faccio Mai in tempo A leggere Che Mi Direbbero cose Molto interessanti Ma di cui Ignoro l'esistenza Ormai Comunque Ah Ecco Qua si recuperano Armi Munizioni E tutto quello Che c'è Da Ci sono Sto recuperando Qualcosa Per la Yakuza Un oggetto Misterioso Ma perché Ma che Ma che E' malatissimo Allora Ma quanto è grosso Sto vizio Guardiano del tempio Ehm Vabbè Ho capito Va Modalità John Marston Ma io sono Pazzo Di questo gioco Già Già Da un Secondo Che ci sto Giocando Possiamo riprendere L'arma Di prima Grazie Mi sa Che è quella Un attimo Bello No Ah ma questo Spona pure Le cose nuove Ma gli amici Ha chiamato Gli amici Non ci si capisce Una mazza Calma calma Usiamo il potere Della calma Ehm Santo cielo Aiuto Mappa via Ok Vado Figuriamo un secondo Odere Della calma Aia Si Preso Che mi è uscito fuori Perché sto cantando Vabbè Ehm Meglio non fare domande Di cui uno potrebbe temere La risposta Detto ciò Usciamo dalla sala Sperà non ci siano altre canzoni Da tagliare Ok Io mi ricordavo Che Shadow Warrior Era un brand Abbastanza folle Avevo giocato al primo Senza mai finirlo Ma non pensavo Così folle E devo dire Che mi piace E' fantastico Dove sei stato Tutta la mia vita Wang Che cosa Pensavo che avrebbe avuto Un altro tipo di effetto Allora Ecco Era l'effetto Che pensavo Che avrebbe avuto Quest'affare Pensavo che fossero Tipo delle sacche Di energia Non lo erano Ehm Bene Allora Posso scalare cose Il classico gioco In cui fai il delirio Ehm Ammassi tutti Ma non capisci Perché lo stai facendo E come hai fatto a farlo Una volta che Sei riuscito a sopravvivere Esattamente quello Che mi è successo Un attimo fa Ehm Dunque Vado 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 Non leggo nulla Faccio come i bimbi minchia Oggi Mi baso Semplicemente Sul Sul Io Assuncio A fare Ma è come se voglio avvicinare Via Via Lontano da me Allora I nemici Ogni tanto faranno cadere Delle gemme Che possano essere usate Per potenziare le armi Potenziamole Se me lo stai dicendo Vuol dire che ho appena raccolta una Treni di trasporto Disabilitato Ehm Armi Potenziamenti Bene Danni 4% in più Dove lo posso mettere? Qua Ok Fateci vedere Vado 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 Non temo nulla Voglio arrivare alla fine del livello Non avrò Il coraggio di mollare Prima di averlo fatto Esco da qui? No Non esco da qui Tentato la scorciatoia Via 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 no 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 Dove dire comunque che Bello fluido Per essere un gioco così frenetico Su console Dunque premi E tieni premuto B Per aumentare la tua velocità Mentre cadi Per cadere come un Fottuto ninja Vabbè Lo posso fare Wow Vado 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 Eh Eh Io sono abbonato a questa giravolta Ok Ho fatto malissimo un sacco di game Allora Riprendo la macchina Riprendo la macchina Sperando che non ci sia la radio accesa Via Bene Sono arrivato Qua Con una rapida Guidata Se io provassi a dargli una cortelata Anche tu hai la stessa capacità? Vabbè Come ti dice la Roma Gli ha rimbalza Vabbè Eh Persa al capo Se il bodyguard è così Mamushi Heika Potrebbe essere un Cold blooded sociopathic mob boss Ma Lei sa come Decorare Ma esatto Ho un flash di Shadow Warrior 1 Possibile Chi magari ne sa più di me Me lo dica Nel caso Quanta bella gente E' anche la moglie di Deadpool Ah lui è il nostro meccanico No La bambina di bambina. Significa no cake? Significa no balls per te, se non fermi la tua mouth. Ah, vedo cosa sta succedendo. La bambina di bambina è stata perdita a tua guardia. Doe mi sento a beheading? Più più importante, pensi che vanno vendere i ticchetti? Penso che la situazione è abbastanza serio. Per alcune volte, lei ha risposto che la Zilla ha trovato. E oggi, lei era due a mia garage a 4. Non è mai tardi. Wow, wow, wow. Rewind. Zilla? Orochi Zilla? Sì, lei lavorava in i lavori. Under cover. Oh, non piace questo tipo di cosa. Sto organizzando una missione di rescue. La sicurezza della Zilla è legionale. Non potrà passare la fronte. E cosa ti suggerirà? Voi inquieto. Tu ti senti un uomo, preferably un uomo che ha avuto il suo cammino. Sto offrando i vostri servizi? Dependendo di quello che hai pagato. 100,000. Cosa. Ah, questo dovrebbe aiutare il mio accountante. Io ancora ho alcuni bambini e alcuni fatti. Io potrei andare in e almeno raccogliere cosa che hai affrontato. Vai, allora, trovare cosa succede. Tra l'altra, se puoi. Tra l'altra? No. Questa è la prima parte che dovrebbero andare. Prendete l'altra... Io ho un locale secludo. Puoi usare. Ok, allora. Prendete l'altra. Prendete l'altra. Tra l'altra. Ti senti lì. Cosa vuoi fare con questo? Prendete l'altra. Quando vedete l'altra. Luang? Sì? Non sbagliare. Se morire, si prenderanno i miei sardini sui miei sardini per mesi. La signora sicuramente sa come motivare il suo lavoro. L'intimidazione è la strada del sbagliato sbagliato. Hey. Si tratta di essere la strada del sbagliato sbagliato. È davvero stupido. Ma è vero. D'accordo. Fuori da qui! Chiacchierati surreali. Vabbè, praticamente... Si è persa la fila di un boss. Dobbiamo recuperarla. Vabbè. Oh! Ci hanno dato un'arma nuova. Abbiamo acquisito degli skill point. Skill point. Che cosa fanno questi skill point? Aumentano i punti vita. Aumentano i medici caduti dai nemici. Vabbè. Aumento i punti... Ah! Però c'è... Scusate. Ci sono un sacco... Allora. Quattro alberi di abilità. Life mastery. Questi qui sono... Guerriero. Poteri. Risorse. Io andrei su... Vortice. Quello che uso spesso. Ma sì. Aumentiamo la potenza di questo. Quante altre cose c'ho? Niente. Va bene. Me ne vado. Ne fate usare il fucile a pompa prima che spengo oggi. Bene. Posso uscire. Vado a recuperare la ragazza. Non si offrono 100.000 dollari in contanti se la recuperiamo. E perché no? Oh! Che bel posto. Mio eroe. Si chiama... La missione. Comunque stilisticamente è una bomba sto gioco. Pazzesco. Mi piace un sacco l'atmosfera. Ma siamo entrati qua con una chiave d'accesso falsa. Ma non siamo entrati. Non ci hanno aperto. Mi hanno sgamato. Bene! Poi! Oh! Iniziamo a ragionare. Su! Eh! Quanta f*** resistenza c'hai! Maledetto! Vado, 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 vado. Gioco più malato di sempre. Niente! Eh! Eh! Ah ecco! C'è un ninja... Robotico! Ma... Eh se.. È malatissimo tutto quello che sta succedendo! Non c'è una cosa sana qui dentro. Eeeh... Daje però su! Ho trovato la chiave d'accesso... Come ti stai accollando A dismisura Ma perché non viene qua Ok Vado 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 No ho lisciato Di poco Ho tonziato il coso Ok Ero morto ma non lo sono più Ero caduto ma sono Riappazzo Meglio così Allora Ma che cazzo di parte si va Mio No Dai 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 Ok No Azzardà Fammi cascare un'altra volta Perché E' bastata la prima Dico due paroline E ci salutiamo Ma ancora in piedi stai Ok Beh direi che definirlo Uno sparadotto esplosivo E' dire poco Ragazzi io direi che per adesso Ci potremmo anche salutare qua Visto che la situazione Sta un attimino degenerando Date un attimo Scegliamo Scegliamo con questi E poi Poi ci salutiamo Posso morire con questi I subumani Potere della calma Potere della Vada No Rende molto più di idea questo Di quello che Ok Niente Non finiscono più Non finiscono più Non finiscono Ok Bene Il delirio Più totale Una catana nuova Ho trovato E delle cose Che non saprei definirvi Eeeh Ah ecco C'ha dei poteri particolari No Sempre gli stessi Vabbè ragazzi Io direi a questo punto Ci potremmo salutare qua Per oggi Però Io il sondaggio in alta destra Ve lo butto Eeeh Fatemi sapere se vorreste Rivedere questo gioco Oppure no Eeeh Sappiate appunto Che il gioco è uscito adesso Su PS4 Xbox One Vi lascio il link Al sito ufficiale In descrizione Affinché possiate Dare un'occhiata Insomma A tutto quello che c'è Da sapere Eeeh E niente Sappiate appunto Che però Volendo Lo trovate anche su PC Per cui niente ragazzi Io spero che il gioco Vi sia piaciuto A me Shadow World 2 Devo dire che mi ha fatto Un'ottima impressione Appunto che Mi spiace veramente tanto Non averlo giocato Ai tempi del suo debutto Su PC Ma adesso Potrò finalmente rimediare Eeeh Per cui niente ragazzi Fatemi sapere che ne pensate E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi